Ci tuffiamo amici di Ceramicanda nella piscina dei brevetti, nella piscina dei marchi, andiamo a fare il punto della situazione grazie alla collaborazione di Brunacci & Partner. Ceramicanda desidera da oggi accompagnarvi nel mondo della proprietà intellettuale, dei marchi, dei brevetti, anche perché in seno alla comunità europea stanno verificandosi novità di rilievo, anche perché le industrie che in genere fanno parte di Ceramicanda, le industrie di cui noi ci occupiamo, spesso si servono di proprietà intellettuali e soprattutto di organizzazioni che lavorano in questo ambito. Ci troviamo presso lo studio Brunacci & Partner di Modena, perché è da qui che inizieremo questo nostro percorso. Perché è importante oggi lavorare sulla proprietà intellettuale? Buongiorno innanzitutto. È importante perché per un'azienda tutelare i propri beni, quindi intesi beni materiali come marchi e brevetti, è fondamentale in un'ottica proprio di competitività verso la concorrenza. Di conseguenza tutelare ciò che costituisce il proprio know-how, e mi riferisco in particolare ai brevetti di invenzione, consente ad un'azienda, qualora il diritto sia effettivamente valido, di poter monopolizzare un concetto, un procedimento, un macchinario e di conseguenza impedire a terzi di copiare e di conseguenza evitare le contraffazioni e quindi avere anche una sorta di monopolio in un particolare settore merceologico. Voi come vi siete organizzati per offrire il massimo del servizio? Noi siamo una struttura, una realtà abbastanza giovane, perché siamo nati a novembre del 2011. In realtà siamo uno studio costituito da professionisti che operano comunque nel settore da oltre 15 anni. Siamo una realtà giovane costituita da ingegneri per quel che riguarda la tutela degli aspetti tecnici, quindi tutela di brevetti, modelli di utilità, design e uno staff costituito da dottoresse o dottori laureati in facoltà umanistiche o giurisprudenza, che si occupano invece della tutela dei marchi, che sono un altro aspetto molto importante che va tenuto in considerazione. Parliamo di marchi. C'è una grossa novità, una novità che è emersa nel maggio del 2011, che ha un po' rivoluzionato il mondo dei marchi in Italia. Esattamente. Anche a livello nazionale è ora possibile presentare opposizione alle domande di marchi o depositate a partire dal maggio 2011 e pubblicate. Dovete sapere che fino a prima le domande di marchi italiano non erano passibili di opposizione, veniva depositata la domanda presso l'ufficio italiano brevetti e marchi e dopo 3-4 anni la domanda andava automaticamente a registrazione una volta verificati i requisiti assoluti da parte dell'ufficio brevetti di Roma. Un'azienda, un libero cittadino vuole tutelarsi a fronte di un'invenzione, viene qui e voi risolvete tutti i suoi problemi. Siamo convinti di riuscire a risolverli nel migliore dei modi. La crisi vi ha danneggiati o paradossalmente proprio nei momenti di crisi ci si tutela di più? È proprio così. La crisi, gli uffici brevetti come noi non risentono particolarmente della crisi proprio perché quando c'è crisi l'imprenditore serio, comunque chi ha voglia di andare avanti, si ingegna e quindi paradossalmente investe di più nella tutela. I problemi ovvio che sono poi diversi e riguardano appunto i pagamenti però in un'ottica di attività e devo dire che anzi gli uffici brevetti tendono a lavorare di più in questi periodi.